5 serie tv thriller da vedere su Netflix che nessuno consiglia mai. Ciao, sono Valerio Novara. Oggi vi parlo di alcuni consigli di serie tv di genere thriller da vedere su Netflix che ci hanno appassionato e che sono passate spesso inosservate dalla maggior parte degli utenti. Quindi se vi state chiedendo cosa vedete stasera, ascoltate il video e prendete spunto, anche perché sono delle serie e miniserie che si fanno ben guardare e che si vedono anche in una sola serata. Partiamo da Inside Man. In quattro episodi la serie esplora e viaggia su due binari. Da una parte abbiamo l'omicida di sua moglie, un uomo interpretato da Stanley Tucci che è rinchiuso in un carcere di massima sicurezza e che è condannato a morte per l'omicidio della moglie alla quale ha addirittura staccato la testa. E quest'uomo però aiuta poliziotti e giornalisti un po' come faceva Anthony Hopkins in Il Silenzio degli Innocenti a delle intuizioni straordinarie e dall'altra parte dell'Atlantico, in Inghilterra, c'è invece un prete che ha una storia molto particolare. Quindi questi due binari a un certo punto si incroceranno perché questo prete a un certo punto riceve una chiavetta USB da uno dei ragazzi della chiesa, da uno dei suoi assistiti che gli dice, nascondila perché mia madre non la deve trovare. E il prete inizialmente dice, vabbè, perché, che cosa contiene questa chiavetta USB? Non te lo posso dire, però aiutami, altrimenti mia mamma si arrabbia. Questo prete prende questa chiavetta USB, la madre di questo ragazzo non la trova, ovviamente, se ne vanno a casa, però quando il prete torna a casa si accorge che all'interno della chiavetta USB c'è del materiale pedopornografico. Da quel momento la sua vita non sarà più la stessa. Non vi sto a dire altro perché è una serie davvero molto avvincente e è un thriller pieno di colpi di scena ed è ben fatto e si intitola Inside Man in quattro puntate, lo trovate su Netflix. La seconda serie che vi consiglio oggi si intitola The Fall. I protagonisti sono Gillian Anderson e Jamie Dornan di 50 sfumature di grigio. È una serie thriller di tre stagioni che è molto avvincente, anche giallo poliziesco, se vogliamo. È ambientata in Irlanda del Nord dove avvengono alcune morti misteriose di giovani donne e viene chiamata dopo tanti giorni di ricerche per trovare questo assassino di queste donne viene chiamata l'ispettrice Stella Gibson che deve indagare su questo assassino, questo serial killer che è Paul Spector interpretato da Jamie Dornan che fa una parte, devo dire, ma molto colpito, ma molto sorpreso. Sia lui che lei, anche perché lui l'avevamo visto in 50 sfumature di grigio, una parte totalmente diversa, anche se ha quella mimica facciale che lo rende un personaggio, un uomo molto misterioso. E fa questa doppia vita. La cosa interessante di questa serie è che lui fa vedere che ha una famiglia normalissima, una moglie, figli e dall'altra parte però ha dei rituali per i quali uccide queste giovani donne, dei rituali in cui c'è molta misoginia e che piano piano l'ispettrice, grazie alle sue intuizioni, perché è veramente bravissima, è un fenomeno, riuscirà a capire che era proprio quella persona insospettabile l'autore di questi efferati omicidi. La terza serie tv thriller che vi consiglio oggi si intitola The Sinner e vede protagonisti Jessica Biel e Bill Pullman, quello di Casper e Independence Day, in cui faceva il presidente degli Stati Uniti a Independence Day. Ebbene, la storia inizia con questa Cora, una donna dalla vita apparentemente serena, anche la famiglia è apparentemente tranquilla, che in un impeto di rabbia uccide con una ferocia assurda un uomo sconosciuto e il detective Ambrose, interpretato da Bill Pullman, si ritroverà a indagare sul perché e soprattutto sulla psiche di questa donna che sarà molto misteriosa e che lo porterà a scoprire dei segreti che erano rimasti sepolti. È una serie antologica, quindi ci sono tutte le puntate, anzi tutte le stagioni sono diverse, anche perché nella seconda stagione invece il detective tornerà nella sua città natale per indagare sull'avvelenamento da parte di un ragazzino di 11 anni nei confronti dei suoi genitori. Consigliata, un grande Bill Pullman, Jessica Biel, fantastica, The Sinner, quattro stagioni, la trovate su Netflix. Quarta serie tv che vi consiglio oggi è una serie thriller psicologica ma anche erotica, si intitola Dietro i Suoi Occhi, sono sei puntate e mi ha lasciato veramente sorpreso, anche perché c'è un finale tutto insomma da capire. Parla di questa ragazza Louise che inizia a lavorare in uno studio di psicologi come segretaria. Un giorno si bacia con un uomo che poi scopre essere il suo nuovo capo proprio all'interno di quello studio. Fatto sta che questo uomo ha una moglie, Adele, alla quale stranamente e misteriosamente la stessa Louise si affeziona, diventa la migliore amica della moglie dell'amante e questo terzetto, questo triangolo amoroso comincerà a far uscire dei segreti che erano rimasti sepolti da troppo tempo all'interno della coppia ed è una serie molto particolare, tra l'altro tratta da un romanzo che vi consiglio di leggere. Si intitola Dietro i Suoi Occhi e sono sei puntate e si fa ben guardare sul Netflix. Chiudiamo la nostra carrellata di serie tv thriller con qualcosa di un po' più spaventoso perché vi consiglio una serie molto più horror che thriller. Si intitola Cabinet of Curiosities e è di Guillermo del Toro. In otto episodi il nostro premio Oscar Guillermo del Toro presenta una serie di storie thriller spaventose psicologiche e se cercavate qualcosa che fosse a livello di, non lo so, i Laus, che è stata una delle serie forse più spaventose, che finalmente ci ha fatto un attimo saltare dalla sedia o dal divano, questo è quello che fa per voi, anche perché sono otto episodi, una storia diversa per ogni episodio che però vi catapulterà nelle paure più profonde dell'animo umano e non vi dico altro. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste cinque serie tv che vi ho consigliato oggi, se ve ne vengono in mente altre che avete visto da consigliare ai ragazzi che ci seguono, scrivetemele nei commenti. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube, Ciaccaazione, e di mettere mi piace su Facebook e di seguirci su Instagram, dove tutti i giorni pubblichiamo news, approfondimenti e consigli che riguardano il mondo del cinema e delle serie tv. Al prossimo video.